Sempre più colpi di scena per il nuovo Vicenza Calcio, ma nulla a che vedere con una bella partita di pallone sul piatto questioni economiche. La novità, la proposta dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario del Vicenza Calcio, SPA, da parte della lussemburghese Boreas Capital SRL. Questo comporterebbe per Boreas un'ulteriore spesa di altri 3 milioni di euro per coprire i debiti pregressi. Giovedì l'assemblea della società proprietaria del Vicenza Calcio. Solo allora sarà presa una decisione, ma intanto la notizia, diffusa attraverso un comunicato da Boreas, rischia di destabilizzare i vertici VFIN.